un caro saluto a tutti da claudio da clara ma soprattutto da autoformula noi ci troviamo a san vittore olona ed è un piacere essere qui in questa esposizione molto bella già claudio mi stava raccontando un sacco di cose di novità raccontando appunto delle auto adesso io ti lascerò da solo così potrai anche dirlo anche a loro grazie mille clara buonasera a tutti bentornati questa sera sarà una serata un po particolare anticipavo a lei perché andremo a parlare di ibrido insomma ci siamo nella nostra gamma prodotti che avevo fatto vedere nelle puntate precedenti swift e ignis abbiamo aggiunto anche finalmente s cross evitare in modo da avere veramente una gamma 360 gradi ibrida seguiteci fino alla fine perché sono novità promozioni che riguardano solo noi autoformula quindi super interessanti poi andremo a fare una piccola panoramica anche per qualcosa di aziendale usato insomma seguiteci fino alla fine l'ibrido che il futuro no io direi di no nel senso che per noi l'ibrido è il presente quindi noi ci siamo già alla grande anche perché un ibrido ti dicevo molto smart dove le persone non devono essere preoccupati della novità tante volte la novità fa paura perché non la conosco è un ibrido molto semplice dopo andremo a fare una rispolverata del funzionamento è presente per noi ormai l'ibrido è cento per cento quindi ci siamo dentro alla grandissima andiamo a vedere allora eccoci qua anche questa sera cominciamo con la macchina più piccolina la nostra suzuki ignis macchina eccezionale 3 metri e 70 alta da terra due allestimenti cool e top quindi partiamo giorno allestimento super ricco sedili riscaldati fari led cerchi lega vetri scuri quindi una macchina alla quale non manca niente versione top con l'adast di seconda generazione la navigazione già integrata il climatizzatore automatico e tantissimi altri accessori non mi voglio concentrare sul discorso accessoristica perché intanto li sappiamo che suzuki viaggia alla grande con allestimenti tra virgolette base super completi mi voglio concentrare sul discorso ibrido quindi questa è la più piccola delle ibride che proponiamo si parte da 13.800 euro senza vincoli legati a permute o cose del genere naturalmente se avete un usato portato e cielo lo comunque cercheremo di valorizzare al meglio è importante anche ignis si può avere con la trazione integrale quindi quattro ruote motrici o il grip in autoformula abbiamo diverse unità in pronta consegna quindi vi aspettiamo abbiamo anche delle versioni bellissime bicolore promo abbiamo detto 13.800 euro lì tra virgolette la normalità voglio sottolineare che quelle campagne che abbiamo fatto noi di autoformula entusiasmanti perché partiamo con un bonus su per quanto riguarda la la innis per coloro che accedono alla formula solution che poi vi spiegherò benissimo che cos'è l'hybrid bonus è di 3.000 euro quindi importante telefonate venite a trovarci vi faremo i preventivi dettagliati in modo da capire bene di che cosa si tratta se invece vi serve una macchina un pochettino più grande oggi con un tantissimo orgoglio posso presentarvi finalmente arrivata la nuova vitara ibrida quindi abbiamo abbandonato il diesel tempo fa stiamo abbandonando il benzina cose di questi giorni abbiamo già l'ibrido quindi è per quello che per noi non è futuro per noi è presente si è aggiunta in gamma la suzuki vitara con best seller 40 anni che vendiamo questa macchina ed è la prima unità ibrida anche qui abbiamo due tipologie di allestimento versione cool e versione top versione cool è già molto ricca addirittura più ricca di ignis perché abbiamo già la frenata automatica nell'allestimento d'ingresso e il faro a led nell'allestimento d'ingresso versione top naturalmente interno di materiale pregiato abbiamo i sensori parcheggio anteriori e posteriori e poi in questo caso abbiamo anche una versione star view quindi per chi volesse il tetto apribile in vetro gran luce eccezionale abbiamo anche quello motore che la equipaggia 1.4 turbo benzina 129 cavalli unito al pacchetto batterie che la rende ibrida eccezionale prezzo d'attacco 20.950 euro che è un prezzo veramente formidabile in questo caso è obbligatorio avere una macchina in permuta o comunque una macchina da rottamare e in questo caso come nell'altro caso applichiamo anche noi solo noi di autoformula una situazione di hybrid bonus quindi per coloro che accederanno alla soluzione solution per quanto riguarda il pagamento di questa macchina abbiamo un hybrid bonus di 5.000 euro ve lo ripeto 5.000 euro quindi importante in autoformula con il solution la vitara si compra con 5.000 euro di vantaggi commerciali la via di mezzo chiamiamola così per comodità vi farò vedere per comodità di spazio la swift che conoscete benissimo anche la swift e ibrida quindi benzina ed elettrica due allestimenti la cool che come questa al mio fianco addirittura oggi ho qui una bicolor fantastica è già una macchina che come potete vedere ruota e lega fendinebbia faro diurno a led telecamera posteriore non manca niente sono tutte cinque porte il motore lo stesso della innis motore 1200 90 cavalli con la distribuzione a catena eccezionale ibrida anche questa qui quindi abbiamo un pacchettino batterie in questo caso le promozioni non hanno il vincolo di permute o situazioni di questo tipo portateci i vostri usati che li vediamo partiamo da 12.950 euro che un prezzo direi strepitoso per una suzuki swift anche qui abbiamo library bonus quindi anche qui ci siamo alla grande per coloro che usufruiranno della formula solution riusciamo ad arrivare a 4.000 di campagna hybrid bonus attenzione le campagne di cui vi sto parlando hybrid bonus riguardano solo esclusivamente noi suzuki auto formula ci siamo concessi il lusso di fare un qualcosa di extra per i nostri clienti che ci seguono ormai da tantissimi anni 4.000 euro hybrid bonus venite a scoprire che cos'è naturalmente anche la la swift come la innis e come la la vitara che abbiamo visto precedentemente si può avere trazione integrale quindi quattro ruote motrici o il grip bellissima e oltretutto si può avere nell'allestimento top quindi chi non fosse ancora soddisfatto dell'allestimento cool ma volesse una macchina stra full abbiamo la versione top quindi top climatizzatore automatico specchier attraibili elettricamente fari full led una macchina insomma super super eccezionale nella gamma si è aggiunta anche la s cross e top hybrid e cool hybrid quindi abbiamo visto che le macchine piccoline ormai da ottobre più o meno l'anno scorso che già ricalcano le nostre strade abbiamo aggiunto le due grandi la vitara l'abbiamo vista l'esse cross è ancora un pochettino più grande quindi per chi volesse un pochettino di spazio in più 4 metri 30 suzuki s cross anche qui disponibile in due allestimenti 1.4 booster jet hybrid 129 cavalli in allestimento cool oppure allestimento top ci sarà un discorso anche qui di hybrid bonus che riguarda più o meno commercialmente le campagne che riguardano la vitara ls cross sono sempre molto simili quindi anche qui solo d'auto formula 5000 di hybrid bonus importantissimo si parte da un prezzo di 20 mila 990 euro quindi eccezionale allestimenti inutile che lo sto a dire nel senso che già la cool è una macchina con cerchi lega specchi retraivi di telecamera dietro già una macchina completissima poi il cliente che arriva e vuole la macchina un pochettino più accessoriata accontenteremo anche lui perché abbiamo le versioni star view addirittura con tetto in vetro non può mancare naturalmente anche sulle s cross la trazione integrale quindi quattro ruote motrici di tutte le macchine che vi sto dando i numeri vi voglio ricordare che sono tutte disponibili intanto per il test drive fondamentale e sono tutte comunque disponibili in pronta consegna non avremo tutti i colori ma ne abbiamo una gran parte ne abbiamo in ordine tantissime quindi importante questo discorso e adesso vi spiegherò con più calma in modo che capite che cos'è la solution quindi questa formula che mi mette in condizione di poter risparmiare un sacco di soldi ho raggiunto claudio perché mi ha incuriosito allora ti ho ascoltato attentamente hai detto che solo qui ad auto formula c'è questa promozione che incredibile questo bonus solution ma me lo spieghi un po con parole povere come funziona assolutamente sì clara le parole sono quelle che usiamo con tutti i clienti quindi di facile comprensione la macchina ricordiamoci può essere acquistata come si vuole quindi per contanti con finanziamento con leasing con noleggio noi di autoformula ci siamo resi conto che il cliente fondamentalmente in un'epoca insomma non troppo ricca diciamo così ha bisogno dei costi certi quindi abbiamo studiato una solution la soluzione non è nient'altro che quella 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 situazione finanziaria che ti mette in condizione di dire compro la macchina la pago per tre anni a una rata certa e tra tre anni decido se restituirla se tenerla o se sostituirla con un'altra macchina ma le parole stanno a zero nel senso che poi alla fine il cliente concretamente io mi sono preparato un esempio tienimi il microfono sì allora eccolo qua lo sono preparato il fogliettino perché non voglio mai dire una cifra per un'altra quindi importante la precisione allora comprare una swift abbiamo visto le varie campagne una swift come questa qua eccezionale prendiamo proprio questa come esempio una versione cool quindi macchina eccezionale non abbiamo abbiamo detto il vincolo della permuta quindi poi se ci fosse ben venga noi abbiamo studiato una situazione tipo poi non è detto che sia per forza questa però una macchina del genere con un anticipo di mille euro circa poi la possiamo gestire 500 2000 da cliente cliente magari all'usato che vale 2000 quindi soldi non e tira fuori con dentro un pacchetto assicurativo per tre anni con dentro il pacchetto tagliandi quindi per tre anni ho tutta la manutenzione ordinaria della macchina pagata c'è la legge quindi con un treno anche di gomme e cerchi invernali quindi treno di ruote e cerchi invernali e manutenzione ordinaria assicurazione per tre anni io vi posso garantire una rata certa di euro 257 quindi mi voglio comprare una swift non sono magari in un momento economico dei migliori ricordatevi che in autoformula con 257 euro al mese vediamo dentro tutte queste cose quindi una macchina nuova la sua assistenza stradale la sua garanzia i suoi tagliandi il suo treno di gomme invernale e la sua assicurazione ricordatevi solo che l'assicurazione l'rc a carico di chi la compra quindi responsabilità civile vi voglio ricordare che c'è fuori il bollo ma anche qui bollo regione lombardia comunque degli incentivi quindi ricordatevi che comprare una swift ibrida significa avere delle agevolazioni dal punto di vista bollo primi cinque anni abbiamo una riduzione al 50 per cento abbiamo una macchina che va nelle varie aree b e c abbiamo una macchina che mette in condizioni alcuni parcheggi blu di non pagare il parcheggio quindi è importante io l'ho fatto sulla swift riguarda tutto il brand ci mettiamo bisogna essere onesti dei soldi ma lo facciamo per avere comunque un ritorno voglio dire a livello quantitativo sicuramente una situazione del genere dovrebbe portare tra tre anni poi decidere dire ok io con la swift mi sono trovato da dio ti faccio l'assegno finanzio la differenza oppure magari nel frattempo un'epoca super veloce arriva qualche macchina nuova al quale sono interessato ci pensiamo noi ritirare la swift che ti abbiamo dato tre anni fa come può capitare il cliente tipo che dice guarda mi hanno dato la macchina aziendale piuttosto che mi trasferisco all'estero siamo pronti a ritirare la macchina niente dovuto da parte vostra quindi importante questo discorso una swift completa di tutte le situazioni a 257 euro al mese aprire i parentesi tanto il tempo dovrebbe ancora esserci per quanto riguarda l'assicurazione che noi diamo assicurazione no problem significa clara si spera di no ma se ti dovessero fregare la macchina diciamo la propria l'italiana i primi due anni siamo in grado di riconoscerti la fattura della macchina quindi la macchina ha avuto un costo di mettiamo 13 mila euro primi due anni ti riconosciamo 13 mila euro oltretutto non è neanche basica perché cristalli grandi eventi sociopolitici caminta naturale un pacchetto molto completo anche il pacchetto ruote invernali anche quello molto completo cerchi gomme sensore pressione pneumatico quindi diciamo non scherziamo cerchiamo veramente di fare un qualcosa di super aggressivo e vi aspettiamo numerosi per questo claudio ma da auto formula c'è anche il chilometro zero l'usato quindi tante tante cose da vedere assolutamente sì stasera cadi anche molto bene perché voglio fare un passo indietro quindi nuovo abbiamo detto tutto ibrido naturalmente auto formula ancora prodotto benzina quindi importante perché qualcosa è nuovo ancora da immatricolare ma nel caso per esempio di vitara abbiamo una disponibilità limitata di vitara quattro ruote motrici mille booster jet chilometro zero eccezionali a 19.990 euro e con questi 19.990 euro vediamo la macchina tre anni di garanzia un treno di gomme invernali completo cerchi gomme sensore pressione pneumatico bollo e passaggio di proprietà quindi fate veloci siate veloci perché le macchine ci sono finiranno non ne abbiamo tantissime ma con meno di 20.000 euro in auto formula si può comprare un vitara 4x4 a chilometro zero se no abbiamo macchine anche di altri brand in questo caso abbiamo una mica eccezionale con motore benzina introvabile 4.000 chilometri in allestimento tecna 500 ne abbiamo 3 o 4 quindi sempre disponibili 500 in auto formula di vari anni vari colori allestimenti abbiamo anche per quanto riguarda nissan in questo caso cascai ne abbiamo una 4 in questo momento ibridi 1.800 cambio automatico bellissimi ce l'abbiamo bianco ce l'abbiamo argento ne abbiamo uno rosso e nero abbiamo una bellissima audi a3 sport back con motore 1.6 gasolio chilometraggio intorno ai 40.000 per chi invece volesse un prodotto molto grande c'è un bellissimo lexus anche quello hybrid lnx 300 in configurazione f sport che è la più bella da questo punto di vista abbiamo in questo caso un vitara star view con cambio automatico motore solo benzina a chilometro zero anche questo bellissima swift perché per chi percorre ancora tanta strada abbiamo una swift caso più unico che raro motore diesel 1.3 indistruttibile con 30.000 chilometri chiamateci che vi diremo il prezzo e le disponibilità la for fiesta in due o tre allestimenti abbiamo delle titanium abbiamo delle versioni base in questo momento in auto formula ci sono dei gimi questo è una rarità macchina con pochissimi chilometri del 2012 ma ne abbiamo anche altri io direi devono venire a vedere toccare con mano assolutamente sì vi aspettiamo numerosi buona serata